Questo è un gesto che si ripete ormai da sempre con Adam perché ovviamente loro sono anche sensibili rispetto a queste tematiche di carattere sociale. Ne parlavo proprio con lui l'altra sera, ci sono persone, bambini, figli di imprenditori che si possono permettere di stare sulle giostre decine e decine di giri e quant'altro. Ci sono invece bambini di famiglie che non è che non arrivano a fine mese, che non ce la fanno proprio e i cui genitori sono costretti a dire bugie ai propri figli per non farli uscire di casa, per non farli andare a Luna Park. La festa della Madonna di Settolori è una festa di popolo, è una festa di socializzazione, quindi il consigliere Pignoli bene ha fatto con questa iniziativa di solidarietà, di generosità nei confronti dei ragazzi ucraini che sono qui a Pescara e che stanno soffrendo purtroppo le conseguenze di una guerra drammatica. È un bel gesto, il Comune di Pescara è sempre pronto ad aderire a tutte le iniziative che riguardano la solidarietà, perché io dico che la solidarietà muove il mondo, lo abbiamo visto in questi due anni di pandemia, in questi mesi di guerra, le attività di volontariato, le associazioni si sono messe tutte a disposizione per alleviare le sofferenze delle persone che avevano un disagio sociale, un disagio sanitario. Adesso c'è questa emergenza umanitaria e noi non ci facciamo trovare impreparati. Domani apriamo l'intero Luna Park gratuito per tutti questi bambini, la mattina dalle 10 fino all'una di mattina. Vi aspettate ovviamente una larga partecipazione? Sì, speriamo, speriamo. È stato sempre così, speriamo che si ripete. Io vorrei ringraziare il Comune di Pescara e in particolare il Sindaco e il Signor Pignoli per questa opportunità, per questa solidarietà a fronte del nostro popolo. Voi non vi immaginate che emozioni ieri ho sentito tra il telefono e anche così di persona dai bambini ucraini quando hanno sentito che loro hanno possibilità di divertirsi gratis sulle giostre perché ci sono i bambini che forse non ci sono stati mai e non hanno avuto opportunità. I ragazzi sono molto impazienti per la giornata di domani. Io ringrazio tutti coloro che si sono agliati a questa proposta e grazie, grazie, grazie. Grazie.